Una delle cose che mi piace di questa scuola è che alla fine noi rendiamo dei bambini, dei ragazzini, finite le scuole medie e li facciamo diventare degli uomini. Questo corso è un corso destinato da Regione Lombardia per ragazzi disabili. Destiniamo questa utenza alla possibilità di apprendere operativamente come si può lavorare nel mondo del lavoro e insegnargli non solo la didattica che spetta ad ogni allievo, ma anche un percorso formativo di stage, al che sono molto lunghi, per poter entrare nel mondo del lavoro al termine del loro percorso formativo. Il lavoro nobilita l'uomo e quindi se io restituisco ai genitori, all'equipe dell'ASL una fotografia di quelle che sono le reali potenzialità lavorative di un allievo, gli cambio la vita. Cambio la vita della famiglia, cambio la vita dei genitori che ci consegnano appunto un ragazzo, possono arrivare alla fine del percorso scolastico con un uomo, con una donna, che magari non riuscirà a lavorare otto ore, magari non riuscirà a lavorare quattro, oppure magari non riuscirà a andare al lavoro, però saprà fare qualcosa di più e se uno è capace gli insegniamo a lavorare, quindi non tanto un lavoro, a lavorare. Anche ragazze con ritardo intellettivo ce la fanno e questo per noi è la più grande soddisfazione, vuol dire che mettere in gioco determinate didattiche che non siano solo didattiche favoriscono la crescita interiore dell'individuo. Grazie per la visione!